Partita particolare contro una squadra che dopo il cambio allenatore ha fatto una vittoria partita contro una squadra che fa dal contropiede la sua arma migliore quindi partita giocata in velocità per Asprazzi abbiamo interpretato quello che volevamo fare non con continuità è importante affrontare tutte le gare con la stessa mentalità perché da solidità l'abbiamo fatto come dicevo prima non sempre dobbiamo prepararci che la sfida è a lungo termine ma proprio queste partite di passaggio dove si arriva e si approccia poi alle gare che contano contano altrettanto come le altre perché hanno lo stesso valore di due punti siamo stati sempre avanti ma non abbiamo mai avuto la forza di chiudere la partita e questo è un appunto di forza che le squadre devono avere e raggiungere e quindi la solidità parte da quello